Salve a tutti mi presento io mi chiamo Diamanteo X e faccio video di gameplay su tanti giochi diversi e molto spesso faccio video tutorial per consigli e per darvi dei trucchi per il pc e se avete qualche consiglio beh non esitate a darmi lì bene questo video introduttivo del mio canale finisce qui spero che vi è piaciuto se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale un grande saluto e al prossimo video ciao ciao